Forse una delle più belle partite del Pescara degli ultimi anni, dal punto di vista del gioco, della qualità e delle emozioni che ha regalato e anche dei rimpianti perché ci sono. Ma devo dire, ho appena finito di fare complimenti anche al loro mister perché è stata una bellissima partita che credo che in questa categoria raramente si vedranno partite come questa perché è stata giocata da tutte e due le parti. Noi abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, siamo stati un po' egoisti ma miglioreremo anche in questo perché è una squadra molto giovane, anche oggi abbiamo terminato la partita con 7-8 Anders, non vado errato. Il Perugia è una buona squadra, secondo me quando sarà pronta anche lei sarà un osso duro per questo campionato, però il Pescara oggi credo che poteva meritare sicuramente qualcosa in più per quello che abbiamo creato, per quello che abbiamo prodotto, per quello che ci siamo mangiati che veramente è una cosa che non si può credere. Le faccio un paio di considerazioni, lei ha detto che il Perugia deve ancora entrare sostanzialmente in condizione perché ha tanti giocatori fuori e che sono arrivati da poco, deve amalgamarsi, però anche il Pescara ha dei giocatori importanti fuori. Assolutamente sì, io ho fatto una premessa, ho detto che questa è una delle partite che in questa categoria si vedranno raramente perché il Perugia e il Pescara hanno giocato una grandissima partita tutte e due con tante occasioni dalla parte e dall'altra, il Pescara nel numero di occasioni sicuramente è stato superiore, però se ne sbagli potevi chiuderla due volte sull'1-0 e la partita si sarebbe messa su un altro binario. Non l'abbiamo fatto, anche questa esperienza si crescerà anche in questo, però vedere una squadra che gioca così io sono felice di essere il presidente di questa squadra. Ecco, a proposito delle occasioni, ce ne sono state tante da una parte e dall'altra nel primo tempo, quelle del Pescara frutto del gioco, quelle del Perugia frutto di qualche errorino di troppo del Pescara, poi dopo l'1-0 sfortunato da gasso, palo pieno, Gigi Cuppone però lì doveva essere un po' meno egoista, d'accordo? Ma Gigi è così, non possiamo mettere la croce addosso a Gigi, Gigi è un generoso da tutto e quando vede la porta è come il Toro quando vede Rosso, quindi sicuramente devi migliorare in questo perché soprattutto nell'azione dove erano in tre la palla va data, senza ombre di dubbio, quindi devi migliorare in questo, però poi alla fine ha fatto corso per 95 minuti, alla fine che così vuoi dire, è un ragazzo così. Dopo la partita con la Juventus si era detto che si attendeva un test più attendibile, visto anche i giovani ragazzi della Juventus che avevano concesso tanto lì dietro, il test è stato superato questa sera? Io credo che questo è chiaro che l'hanno detto tutti, aspettiamo di vedere una partita più importante, oggi credo che abbiamo incontrato una sicuramente delle protagoniste di questo campionato perché ha un organico di grande valore e gioca a calcio, gioca a calcio perché cerca di giocare a calcio, poi ha delle individualità che chiaramente ti possono mettere in difficoltà perché Bartolomei ogni punizione potenzialmente può essere gol e quindi sicuramente noi siamo arrivati davanti alla porta col gioco, molto di più di loro, però è stata una bellissima partita, io lo dicevo con Daniele Dellicarri in tribuna, mi sembrava una partita sicuramente di un'altra categoria. Le faccio l'ultima da parte mia, prima delle domande da studio, lei ha detto partita di un'altra categoria in campo, ma anche questa cornice di pubblico, sia i tifosi del Perugia che del Pescara sono almeno da Serie B, sa perché sono arrivati al 42, siamo del primo tempo i tifosi del Pescara, sa cosa è successo? No, non lo so, non lo so, ma è la seconda volta che capita qui a Perugia, io credo che dobbiamo cercare tutti di venire incontro alla gente che fa sacrifici, che prende le macchine, prende i pulmini, viene a vedere una partita e non si può far entrare i tifosi alla fine del primo tempo, perché non mi sembra una cosa corretta, poi magari li facciamo entrare e si vedono fumogeni in campo che non dovrebbero entrare, meglio i tifosi che i fumogeni. Studio Massimo Profeta e Fabio Ferraresi per il presidente del Pescara che vi ascolta. Sì, velocemente io faccio una considerazione, se è d'accordo naturalmente il presidente, poi la domanda anche di Fabio, perché mi verrebbe da dire, presidente, buttata una partita già vinta, però le cose positive sono state tante, siamo d'accordissimo con la sua analisi, per esempio sulla riconquista del pallone, mi verrebbe da dire, squizzato, che ha dato il là al gol del vantaggio del Pescara andando a aggredire altissimo. Un po' quello che ha fatto lo scorso anno, per esempio, Raffià Catanzaro, mi è venuta in mente quell'azione, perché significa che è stata fatta con i tempi giusti ed è stata fatta l'aggressione sul portatore di palla avversaria con i tempi giusti, anche in occasione della seconda occasione clamorosa, proprio della seconda ghiotta palla gol, è lì purtroppo Cuppone, ma già ne ha parlato, insomma avrebbe dovuto essere meno egoista, diciamo così. Sono d'accordo, squizzato migliore a partita dopo partita, sta recependo tutto quello che il mister vuole da lui, credo che ha una qualità sicuramente importante, ma come diceva prima Enrico, sono state due squadre molto molto brave in campo, tutte e due hanno da recuperare giocatori importanti e credo che se il Pescara è questo di questa sera sicuramente ci divertiremo quest'anno. Presidente, come stanno gli acciaccati? Ma gli acciaccati, intanto stasera è rientrato Cangiano e mi sembra che è rientrato anche molto bene, Vergani piano piano arriverà in forma e potrà essere utilizzabile, in settimana dovrebbe rientrare sicuramente Franchini e anche Tomassini, quindi speriamo, incrociamo le dita e speriamo di avere tutti nel più breve tempo possibile, e con anche il ritorno di Tugnoff che per noi è un giocatore importante. L'ultima di Fabio Ferraresi e salutiamo il Presidente. No, io al Presidente chiaramente sulla partita abbiamo detto tutto, volevo chiedere se torniamo a casa più con rammarico per il risultato o più con la consapevolezza per la grande prestazione autorevole che il Pescara ha fatto, è difficile oggi scegliere tra le due. Sì, però credo che ci siano tutti e due i fattori di cui parlavi, c'è la consapevolezza di aver visto un Pescara giocare molto bene, c'è il rammarico purtroppo perché è una partita che potevamo chiudere, non l'abbiamo chiuso, abbiamo avuto diverse occasioni e siamo stati un po' sfortunati, un po' egoisti e non l'abbiamo portato a casa, ma sicuramente il Pescara di questa sera è un Pescara che merita applausi e che merita il seguito del suo pubblico. Sono felice di essere il presidente di questa squadra, è il titolo dell'articolo, va bene? Ma io lo sapete, amo il calcio, mi piace vedere il bel calcio e quando vedo una partita del genere non posso che essere felice.